buon pomeriggio benvenuti a quando si dice danno un programma che va in onda sulla pagina di libera espressione oggi siamo in compagnia di un'altra nuova ospite e parleremo sempre di un argomento che riguarda il mondo del lavoro un argomento che abbiamo già trattato in precedenza ma in maniera totalmente differente siamo in compagnia di emma mantovani ciao grazie grazie a ma per i chilometri che ti sei fatta perché comunque ma è venuta la ferrara ok per il tempo che ci dedichi oggi grazie a voi e chi è emma mantovani allora bella domanda bella domanda bella domanda emma mantovani è un imprenditrice che opera nel mondo del network quindi network marketing è seo quindi fondatrice di netto su un'azienda che riguarda principalmente la formazione sempre relativa al network e anche seo di next people però non vi dico cos'è perché ce lo spiegherà lei dopo è anche autrice di due libri altro calciatrice possiamo dire calciatrice anche calciatrice scusatemi se mi sono dimenticato un pezzettino calciatrice in in serie a 2 vogliamo dire anche la squadra già che ci siamo non lo so e dai salutiamo le ragazze del granzette di rovigo ok ciao granzette e anche lo staff dai poveri anche lo staff salutiamoli tutti e saluti a tutti faremo il tipo per voi da quando si dice donna ok esatto seguiteci ecco allora iniziamo a parlare di che cos'è il network quindi il settore in cui stai operando e come mai hai scelto questa strada qui poi sei anche insomma abbastanza giovane vediamo un po grazie grazie per il giorno all'apparenza all'apparenza esatto ok vi mostro un po meno anni di quelli che ho in realtà quindi no dai va bene al di là di questo sì diciamo che il network è come mai ho iniziato in realtà è stato il mio primo e unico lavoro quindi uscito dall'università ho iniziato subito ad approcciare a questo mondo per fortuna dico io perché è stata la mia più grande fortuna anche perché non so se sarei stata in grado di fare qualcos'altro nel senso che comunque i lavori tradizionali sì sì esatto adesso poi capiamo un po meglio anche di cosa si tratta però effettivamente è stata una una chiamata in un certo senso diciamo che hai avuto l'illuminazione ho avuto l'illuminazione se così si può chiamare dai no diciamo che sono sempre stata una persona un po come dire che non si identificava con con la media delle persone che aveva attorno quindi anche quando andavo alle superiori il mio unico problema era dover stare cinque ore lì sul banco no io guardavo fuori dalla finestra e vedevo le giornate che scorrevano le stagioni proprio a modi e io stavo sempre lì in quel banco e nella mia testa c'era questa cosa che non che non andava bene tant'è che vabbè ormai lo posso dire perché i tempi delle superiori sono finiti molte volte mi è successo di fare fuoco che a Ferrara fare fuoco o fare fuego fare fuego come il mio tatuaggio che ho fare fuoco a Ferrara vuol dire quando salti la scuola fai salina in italiano vuol dire fare salina perché ti sto raccontando questo aneddoto perché nel momento in cui io saltavo la scuola mi rendevo conto che in quelle 4-5 ore in cui magari sarei stata in classe potevo fare altre 2500 cose nello stesso tempo no magari mi capitava di prendere il treno andare a Bologna piuttosto che Venezia che erano due mette molto raggiungibili da casa mia e effettivamente mi rendevo conto che in quelle stesse ore potevo fare mille altre cose e da lì e ha cominciato a maturare in me quest'idea del dover trovare un lavoro comunque che mi permettesse di fare effettivamente quello che quello che mi andava senza avere particolari restrizioni senza avere un capo a cui rendere conto senza avere tutta una serie di schemi no perché quali sono le differenze tra lavorare nel network e lavori tradizionali alla fine innanzitutto va capito secondo me che cos'è il network che non è altro che un sistema distributivo in un certo senso che si pone in posso dire concorrenza in realtà non è una concorrenza vera però si pone a lato di quelli che sono i sistemi distributivi tradizionali come per esempio noi conosciamo non lo so l'e commerce il mondo dell'e commerce piuttosto che il mondo della vendita diretta piuttosto che la distribuzione la grande distribuzione organizzata insomma è semplicemente un sistema che permette di veicolare dei prodotti o dei servizi al consumatore finale solo che invece che utilizzare i metodi tradizionali quelli che abbiamo detto adesso utilizza le persone fondamentalmente quindi è un qualche cosa che utilizza le persone anche se è brutto dire utilizza le persone però diciamo che la persona è l'asset fondamentale di questo lavoro quindi bisogna essere molto portati a stare bene insieme alle persone beh infatti effettivamente e tu tra le persone hai scelto però di non dedicare con quel tuo tempo a tutti o di non lavorare con tutto un pubblico vasto vero? ok hai scelto di lavorare in particolar modo con le donne esatto come mai? sì perché ritengo che la donna soprattutto nel network marketing sia l'entità possiamo dire così che più ha predisposizione per fare questo tipo di lavoro proprio perché è un tipo di lavoro che presuppone il fatto che tu sia sempre a contatto con le persone ma soprattutto che tu abbia a cuore quella che è la crescita e la collaborazione con le persone la donna diciamo che ha tutta una serie di caratteristiche innate che le permettono di base di avere dei risultati quindi sicuramente per esempio la donna è anche portata per essere mamma proprio geneticamente parlando quindi comunque il fatto di crescere un nuovo collaboratore per fare in modo che questa persona possa avere magari successo in un'industria come quella del network marketing ha molto a che vedere con quello che è la crescita di un figlio perché tu prendi una persona che magari non ha delle competenze e devi sinceramente interessarti del fatto che questa persona acquisisca le competenze e possa poi avere una crescita e ottenere dei risultati. Quindi lo prendi per mano e lo compagni e porti alle elementari parti dall'asilo molto spesso elementari vedi eccetera ti assicuri che non salti la scuola e cerchi un attimo di... come facevi tu all'epoca perché i risultati eh però esatto ok vabbè quindi target donne formazione anche dedicata alle donne abbiamo detto e per questo è nata anche Network esatto ma li escludi del tutto gli uomini oppure? poverini li consideriamo? tantino? li consideriamo un pochino dai un pochino? vabbè no sì scherzi a parte sì allora diciamo che mi immagino che comunque anche tutte le mie colleghe che mi hanno preceduto in queste interviste e che mi seguiranno in queste interviste insomma a di là che sono donne sono persone che hanno dimostrato che comunque l'universo femminile ha tanto da dare in generale non solamente nel mondo del network ovviamente ma nel mondo del lavoro e comunque in generale dello spettacolo piuttosto che e ho deciso di focalizzarmi sulle donne perché appunto penso che abbiano tutta una serie di caratteristiche innate che sono assolutamente essenziali per ottenere dei risultati in questo settore quindi la mia azienda si occupa di fare formazione dedicata perché ovviamente uomini e donne sono completamente diversi quindi come ti approccia una donna è totalmente diverso da come devi approcciarti o trattare un uomo ciò non toglie che comunque ovviamente bene o male la formazione di base è quella quindi in realtà anche gli uomini possono tranquillamente insomma accedere a quella che è la mia formazione cerco comunque di tenere un attimino più riservata la cosa una formazione d'elite esatto ok quindi network nasce solo ed esclusivamente per la formazione esatto ok e invece abbiamo detto che sei anche CEO di Next Step People che cos'è? cos'è? che cos'è? allora Next Step People è una community fondamentalmente quindi è un gruppo di persone io sono la fondatrice tra virgolette ma in realtà ci sono tutta una serie di persone che mi hanno aiutato a creare questa community e fondamentalmente riguardo a un gruppo di persone che hanno come asset più importante il fatto di guardare sempre al traguardo successivo cioè Next Step People viene proprio da questa cosa qua il fatto di essere orientati a guardare quello che è il prossimo traguardo io ottengo un risultato mi prefisso un risultato lo ottengo cerco di guardare sempre quello successivo ok questo è il modo che noi promuoviamo è proprio uno stile di vita quindi questo vale per tutto non serve solo non è focalizzato solamente al mondo del lavoro ma vale anche nello sport nella vita personale cioè nel momento in cui tu raggiungi degli obiettivi dei risultati noi siamo portati a guardare sempre a quello dopo questo ci permette di essere in continua evoluzione d'altronde comunque viviamo in un'epoca in cui c'è un'iper evoluzione generale vuoi la tecnologia vuoi un po' di cose insomma si va alla velocità della luce di conseguenza è fondamentale secondo me essere sempre un passettino avanti quindi guardare sempre il Next Step sempre il Next Step ma quindi possono farne parte tutti di Next Step oppure? sì nel senso che come si fa ad entrare a far parte di questa community? allora fondamentalmente si è aperta a tutti la community ovvio che è dedicata a quelle persone che hanno lo stesso mindset che abbiamo noi quindi che condividono il fatto che appunto siamo in un'epoca in cui ci sono tutta una serie di evoluzioni tecnologiche e non quindi fondamentalmente dentro la community troverai persone ambiziose che vogliono ottenere dei risultati sempre più grandi che magari nel loro campo specifico hanno già molto successo quindi nel loro lavoro piuttosto che anche nel network marketing perché ci sono diversi networker quindi diciamo è proprio una community dove ti puoi confrontare con delle persone di un altro livello a mio avviso c'è un detto che dice sei la media delle cinque persone che frequenti di più sicuramente all'interno di questa community ecco ci sono persone che vale la pena frequentare se ovviamente siamo persone ambiziose che vogliamo fare vogliamo ottenere qualcosa in più però questo è interessante e ha dei canali? ha dei canali? social aperti in questo momento abbiamo il sito che è nextsteppeople.com ok dove già lì si possono trovare tutta una serie di informazioni c'è qualche video ci sono già delle foto di alcuni membri della community che sono diciamo i fondatori della community e poi abbiamo una pagina instagram in questo momento che non abbiamo ancora iniziato a promuovere per bene però un qualche cosa di work in progress insomma quali sono le caratteristiche che devono avere le persone per iniziare a collaborare con te per entrare in next step per avere a che fare con i tuoi leader? questa è una bella domanda non è facile rispondere a questa domanda nel senso che il mondo del network marketing o meglio per avere risultati in questo mondo bisogna sviluppare tutta una serie di caratteristiche tutta una serie di competenze che sono molto a 360 gradi cioè parliamo di competenze a livello di marketing di copywriting di vendita di tutta una serie di qualità anche diverse tra di loro web? però cosa? anche competenze web? sì assolutamente sì social network piuttosto che competenze di funnel, funnel marketing cioè ci sono tantissime cose che bisogna imparare assolutamente se vogliamo essere dei networker a 360 gradi quindi sicuramente una cosa che bisogna avere è la pazienza una grande pazienza perché tutte queste cose le devi imparare quindi magari sei competente in marketing perché i tuoi studi ti hanno portato a fare quello devi imparare tutta una serie di altre cose viceversa magari sei fortissima sui social però hai tutta un'altra serie di cose da imparare no quindi sicuramente ti serve del tempo per imparare queste cose della pazienza e della perseveranza nel provare ad applicare ogni volta quello che impari perché poi alla fine se non applichi quello che impari quindi non ci muoviamo mai da siamo sempre lì però sicuramente se devo dirti una cosa su tutte è l'ambizione quello quello senz'altro cioè senza un giusto grado di ambizione non si può ottenere niente non nel network marketing ma in generale quindi soprattutto per entrare a far parte del mio team io sono una persona che esige molto in primis da se stessa e poi anche dai suoi collaboratori è fondamentale ma per imparare tutte queste cose qui non si rischia poi di diventare tuttologi no perché bisogna impararle a settori e imparare ad applicarle a settori cioè il mestiere del networker prevede tutta una serie di abilità non devi diventare un esperto di marketing un esperto di vendita un esperto di copie un esperto di eccetera 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 tu devi imparare tutte quelle che sono le abilità di base che ti danno queste discipline e riuscire a trovare il modo di mescolarle tra loro e ottenere quelli che sono i tuoi risultati ok ma tu stai parlando adesso di competenze tecniche per se non servono solo quelle assolutamente le soft skills certo ok assolutamente sì quindi sono altre competenze in più da imparare per questo dico che ci vuole pazienza bisogna imparare inizierà ad applicare testare fare tutta una serie di cose e per questo dico che alla base di tutto ci sta l'ambizione perché se non hai un'ambizione abbastanza grande non puoi ottenere dei risultati abbastanza grandi e soprattutto non avrai la costanza per imparare tutte le cose che servono perché ce ne sono veramente tante e quindi ci vuole tempo ci vuole studio ci vuole tutto ambizione mentre una delle caratteristiche che ti piace di più che apprezzi di più di una delle persone con cui lavori ma allora la pazienza di sopportarti insomma la pazienza l'apprezzo ma deve essere proprio la base perché se no non può lavorare con me perché non mi può sopportare no io sono molto legata veramente al concetto proprio dell'ambizione cioè della fame di quella sana voglia di ottenere i risultati e fare tutto quello che serve per ottenere i risultati perché una persona può venire da me e non sapere fare nulla non avere competenze di nulla ma se ha la giusta ambizione ci sono tutti gli strumenti per imparare a fare le cose ma questo penso che valga un po' in tutti i settori in tutte le cose e persone che stanno collaborando con te? le persone? no delle caratteristiche che magari ti piacciono allora sicuramente il fatto di dire le cose in faccia il fatto di essere diretti è una cosa che apprezzo molto perché soprattutto quando hai a che fare con le persone se non sei comunque dirette e trasparente in quelle che sono le cose soprattutto che vanno male rischi poi di avere dei blocchi e di creare magari anche delle gelosie piuttosto che delle cose all'interno del team che possono non andare bene cioè come appunto si tratta fondamentalmente di fare un lavoro di squadra la squadra è come un meccanismo che dove tutti gli ingranaggi devono essere oliati ok se c'è un ingranaggio che gira male si blocca tutto quindi il fatto di dire le cose in faccia ti permette invece secondo me di far girare tutto bene quindi questa è una cosa sicuramente che apprezzo perfetto allora prima parlavamo ti ho fatto una domanda no la differenza tra il lavoro tradizionale e il network tu mi hai detto che ti sei approcciata al network anche perché hai visto un po' il mondo che stava cambiando assolutamente sì oggi ci sono 3 miliardi di articoli che parlano di robot che diventano bartender piuttosto che classico esempio ai caselli della strada non ci sono più le persone ma ci sono le macchinette stessa cosa nei supermercati ci sono comunque tutti dei meccanismi automatici esatto quindi che cambiamento hai visto tu qualche anno fa quando hai iniziato allora come dicevo prima la mia grande fortuna è stata quella che il network è stato il mio primo lavoro primo e unico lavoro quindi diciamo che non ho vissuto direttamente sulla mia pelle quelli che sono stati i cambiamenti degli ultimi anni li ho vissuti ovviamente indirettamente perché anche girando spesso in macchina l'esempio che hai fatto tu è palese cioè mentre prima magari ad ogni casello dell'autostrada c'erano delle persone che fisicamente ti ritiravano il bigliettino e ti davano il resto a mano adesso sono o macchine o telepass o quello che è ma su dieci caselli otto sono automatici e due magari hanno hanno la persona quindi in realtà il personale umano tra virgolette è sempre meno richiesto per certi tipi di lavoro ovviamente quali sono i lavori nuovi che secondo te andranno? allora sicuramente ci sarà intanto un bisogno di riqualificare un altissimo numero di dipendenti che ad oggi stanno facendo dei lavori che sono facilmente sostituibili da parte delle macchine abbiamo appena fatto l'esempio per esempio dei casellanti dell'autostrada ma basti pensare anche per esempio a chi lavora in amministrazione di un'azienda ad oggi è facilmente sostituibile con un software quindi alla fine bisogna imparare delle soft skills completamente nuove che ti permettono di integrare a quello che tu stai facendo delle cose che non possono essere fatte dalle macchine quindi le macchine cosa non sono in grado di fare? di fare un one to one dove bisogna avere un alto grado di convincimento quindi per esempio la vendita certo ci sono gli e-commerce, le cose che fanno una vendita automatica ma nel momento in cui deve entrare in campo la relazione tra le persone quello ovviamente è un qualche cosa che le macchine non possono sostituire per esempio uno dei lavori curiosi del futuro sarà quello del pilota spaziale ad oggi il turismo spaziale è una cosa che ancora magari è un po' vista così perché è di cipana esatto però già entro il 2030 sarà una cosa molto molto più alla portata cioè come oggi ti prendi il volo e te ne vai a Dubai domani prendi il volo di prima classe e te ne vai sulla luna no è vero e qui arriviamo anche a una domanda interessante perché tu da quanti anni è che fai network? ormai sono più di 5 anni ok sei sempre stata con la stessa azienda? quante esperienze di azienda hai avuto? perché le tue colleghe che ho intervistato prima comunque non tutte hanno iniziato e stanno continuando sempre con la stessa azienda è anche il mio caso nel senso che io ho iniziato come ho detto prima il network è stato il mio primo e unico lavoro quindi l'ho conosciuto in età in cui andavo all'università non avevo ancora iniziato ad avere nessun tipo di esperienza lavorativa ho iniziato con un'azienda di servizi in un ambiente prettamente maschile quindi in quel senso mi sono ritrovata un po' in analogia con quello che stavo provando con il mondo del calcio perché il mondo del calcio soprattutto in italia è un mondo maschile cioè calcio è un uomo ad oggi nonostante insomma il calcio femminile stia uscendo nell'ultimo periodo sono più piede di sicuro sono mondiali poi gli ultimi esatto e quindi un network di servizio in un ambiente maschile dove ho lavorato per tre anni sono riuscita in tre anni ad ottenere la qualifica di senior ambassador che nel mondo del network significa comunque una qualifica molto molto importante sono arrivata ai vertici di questa azienda che in soli tre anni è stato un risultato importantissimo perché quando io ho raggiunto quella qualifica c'erano solamente quattro donne in italia che avevano fatto questo beh significa che hai mosso comunque milioni di euro di fatturati sì cioè non è che hai mosso due euro esatto ho costruito un team comunque importante sia a livello numerico che di aziende insomma imprenditori persone anche di un certo spessore e abbiamo mosso milioni di euro sì quindi è stato un risultato importante ok perché dopo questo risultato importante hai deciso poi di cambiare e di iniziare una nuova avventura allora ci sono due motivi principalmente il primo motivo è perché succede che a volte nella vita le cose non vadano come devono andare e di conseguenza non ero più contenta di quello che stavo facendo diciamo che mi sono resa conto che rispetto al lavoro che io stavo facendo i risultati non solo economici ma anche dal punto di vista di soddisfazione personale non erano più all'altezza prima parlavamo del fatto dell'ambizione e del fatto di puntare sempre al next step che è un po' l'obiettivo della mia community non mi sentivo più in linea con quelli che erano i risultati che avevo in quel momento il secondo motivo è proprio questo perché voglio battere un record in questo momento ho deciso di cambiare di spostarmi in un'azienda di prodotto quindi prima lavoravo per un'azienda di servizio adesso sono passata ad un'azienda di prodotto un ambito totalmente differente quindi che non ha mai affrontato in vita tua assolutamente no è una sfida completamente nuova e il mio obiettivo è ottenere gli stessi identici risultati che ho ottenuto con l'altra azienda ma in meno tempo quindi non metterci tre anni ma mettercene magari due e adesso vediamo se riuscirò ad ottenere questo questo risultato però diciamo che quindi è stata anche una cosa di sfida personale di stimoli di poi sono una persona che non si accontenta mai di conseguenza nel momento in cui sento che le cose un po' mi vanno comode tendo a voler uscire un po' da questa zona di comfort e quindi questi sono un po' i due motivi per cui però già qualcuno mi ha detto che in cinque mesi hai fatto insomma un bel esploit siamo sulla via giusta mettiamola così bene io so anche che però tu nell'azienda precedente lavoravi offline sì ok adesso invece ti sei spostata e hai creato degli strumenti nuovi una formazione totalmente nuova per un lavoro totalmente online totalmente no nel senso che mi piace comunque fare in modo che le due cose vadano a braccetto o meglio ci sarebbe da fare un discorso un pochino più ampio io penso che l'online il mondo dell'online quindi tutto quello che riguarda i social network piuttosto che tutto quello che è internet se vogliamo usare un termine un po' datato sia assolutamente fondamentale e utile per quello che riguarda la lead generation quindi tutta quella parte di acquisizione contatti esattamente acquisizione contatto sia in termini di persone interessate a voler fare l'attività con te sia in termini proprio di clienti che vogliono utilizzare i tuoi prodotti questa è tutta la parte proprio di acquisizione ok quindi avere un flusso in entrata di contatti che puoi gestire ripeto come collaboratore o come cliente per quello che riguarda poi l'offline è comunque fondamentale perché se tu stai costruendo un team di persone e fare network comunque vuol dire costruire un team di persone è normale ed è fondamentale che tu queste persone una volta che magari si le hai anche acquisite online le porti offline quindi organizzi l'evento dal vivo piuttosto che li vai a conoscere personalmente nelle città dove sono il tuo metodo insomma per poi averci dei contatti offline assolutamente online, nel web basta avere una pagina instagram o una pagina facebook oppure devi un attimo ampliare magari 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 bastasse no, cos'è che serve per presentarsi online in maniera ottimale serve avere quello che viene chiamato l'universo digitale che cos'è? l'universo digitale non è altro che un bigliettino da visita completo che tu dai alle persone che cercano informazioni su di te ok se una persona digita il tuo nome e cognome su google ipotesi devono venire fuori tutta una serie di informazioni che sei tu a dare ok se quelle informazioni non ci sono e se non gliele dai tu non ci possono essere perché non è che qualcuno si mette a scrivere di te è un problema perché il potenziale collaboratore o il potenziale cliente prima di sceglierti deve valutare e comunque è abituato a valutare tutta la concorrenza tutte le alternative che ci sono a te quindi nel momento in cui cerca te deve trovarti in tutte le forme in cui ti vuole trovare c'è chi è abituato a cercare i contenuti tramite youtube quindi ti deve trovare su youtube c'è chi è abituato a cercare i contenuti tramite i social quindi facebook, instagram, linkedin adesso va di modo a tiktok insomma tutti quei canali tiktok? non ancora ancora no ci sta lavorando sto cercando di trovare un approccio business a tiktok però ci siamo sono i sottofondi business i canzoni business vedremo come approcciare anche quello però è fondamentale rimanere comunque aggiornati su tutte quelle che sono le nuove opportunità perché adesso anche tiktok sembra una cavolata però c'è un target di persone sicuramente più giovani rispetto a quelli che utilizzano facebook perché tiktok è più un social dedicato ai giovanissimi possiamo dire però anche lì c'è una nicchia di mercato importante quindi se tu con il tuo posizionamento puoi essere interessato anche a quella nicchia loro comunicano lì si ritrovano lì è la stessa identica cosa che utilizzare le riviste di settore se vogliamo parlare dell'offline ok? tu ovviamente per fare questo comunque hai una formazione perché prima parlavamo delle skills quindi sia soft skills che quelle magari un pochino più tecniche hai una formazione che spazia dal mondo del network però va anche oltre cioè tu ti sei formata con persone che non sono solo del mondo del network perché? assolutamente sì perché come dicevamo prima fare network marketing vuol dire avere tutta una serie di abilità e di competenze che si devono mescolare tra loro come faccio io ad acquisire la competenza della vendita? vado, devo andare a cercarmi il maggiore esperto di vendita al quale io posso accedere e fare formazione su quella cosa lì come faccio per acquisire delle competenze di comunicazione? vado da quella che io reputo l'esperta più autorevole in Italia sulla comunicazione e cerco di imparare tutte quelle cose da lei una volta che io sono andata da tutti gli esperti dei vari settori che mi interessa acquisire insomma come abilità per fare il networker allora dopo lì posso andare a mescolare tutte quelle che sono le competenze però io fondamentalmente anche quando si parla del fatto che bisogna avere un mentore è importantissimo avere un mentore ma non ne puoi avere uno ne devi avere uno per ogni abilità ok io ho il mio mentor che riguarda la vendita quello che riguarda il marketing che in realtà sono la stessa persona quella che riguarda la comunità ce n'è uno di esperto di marketing e vendita in Italia quindi lui è e non si può scappare ho per esempio il mio mentore che è quello che mi ha insegnato a parlare in pubblico ho la mia mentore che è quella che mi ha insegnato a comunicare quando facciamo il decollo a lui esatto il decollo di Massimiliano ciao Massimiliano vabbè devo fare i nomi dei mentori no 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 li teniamo nascosti non spoileriamo tutta la formazione che poi comunque potrebbe essere formazione che dai al tuo team tramite l'academy hai messo su anche la formazione online esattamente sì sì sono abituata a fare formazione sia online che offline ai membri del mio team e ovviamente in cosa consiste la mia formazione io vado dall'esperto di marketing mi prendo tutte quelle che sono le informazioni che interessano a me per sviluppare il network e trasferisco al mio team le informazioni ma andandomle a prendere direttamente alla fonte e molto spesso quando c'è la possibilità perché magari a volte non c'è per questione di budget eccetera metto a disposizione proprio l'esperto stesso all'interno del team quindi non sono una persona che fa da muro ma mi piace fare da ponte cioè se io riesco a mettere l'esperto direttamente in mano il mio team riesco secondo me è ancora meglio perché si vanno a prendere le informazioni direttamente alla fonte tanto infatti anche questo è un tema in realtà che ci stavo pensando stamattina tanti leader di network tendono a fare i mood cioè loro si vanno a prendere la formazione e poi cosa fanno? trasferiscono al team solo quello che vogliono ma mettili a disposizione direttamente la fonte perché comunque le persone almeno quelle che lavorano con me e quelle che io voglio lavorare con me sono persone pensanti cioè hanno una testa propria e non devono essere degli automi che fanno le cose come le fanno tutti cioè non è che io ti do il sistema vincente e allora ok io ti do un sistema vincente certo che sì ma tu devi essere in grado di vestirtelo addosso e quindi andarti a prendere tu in prima persona le formazioni e le informazioni perché magari molti leader ti danno dei sistemi però è quello lì preimpostato e non ti puoi muovere cioè se ti si taglia addosso bene se non ti si taglia addosso ti tagli tu e ti ci metti dentro esatto è un casino e questa cosa io non l'accetto anche perché a mia volta sono stata diciamo all'interno di un sistema di qualcun altro dove non è che mi venissero imposte però mi era stata data una linea guida che o così o così ma in realtà non è vero perché comunque le persone sono tutte diverse comunichiamo in maniera diversa abbiamo avuto delle esperienze diverse adesso magari io e te siamo coetane siamo donne va bene però io all'interno del mio team ho delle persone di 50-60 anni magari degli uomini dei manager di 50 anni cioè è normale che non possono comunicare nella mia stessa maniera e non hanno avuto le mie stesse esperienze ma sono molto più avanti quindi io devo dare anche a loro un sistema vincente che si possa tagliare anche su quello che è la loro figura per farlo devi avere delle competenze che non sono trasversali giustamente bene allora una domanda che tanto è un luogo comune però te la faccio ovviamente vabbè parliamo di piramidi non quelle dell'Egitto perché di solito dicono tutti ah ma quella roba lì con il network o la catena di Sant'Antonio però non parliamo di catene evitiamo la piramide perché se tu stai su allora è dato per scontato che guadagni se invece arrivi così no è vero spiega un attimo è vero è un luogo comune è abbastanza andiamola a smontare un attimo totalmente sbagliato partiamo da questo presupposto se vogliamo parlare di qualcosa proprio un pochino più tecnico il network in Italia è regolamentato dalla legge 173 del 2005 che vieta completamente gli schemi piramidali chiamati schema Ponzi o tutti gli altri sinonimi quindi partendo da questo presupposto quindi non potrebbe essere un sistema distributivo attivo se fosse una cosa che non va bene non è assolutamente vero perché per esempio nella mia azienda precedente io sono arrivata quando l'azienda comunque era già in campo quando c'erano già diversi leader diverse persone che guadagnavano molti soldi io nel giro di tre anni sono arrivata a guadagnare molto ma molto di più rispetto alle persone che mi avevano inserito all'interno di questo sistema quindi nonostante persone avessero iniziato magari due tre quattro anni prima di me non guadagnavano assolutamente quello che guadagnavo io quindi questo ti fa capire che comunque il fattore tempo non è fondamentale nel senso che tu puoi arrivare in un'azienda anche già avviata e comunque guadagnare di più rispetto alle persone che erano già dentro prima a patto che tu sia capace abbia tutta una serie di abilità eccetera ma domanda domanda perché molti parlano del momentum ok molti ti dicono entra in un'azienda già avviata che abbia superato dieci quindici anni che abbia già superato tutte le varie problematiche le crisi eccetera e già sei sicuro sicura e tranquilla che puoi fare attività senza avere tante rotture di scatole oppure perché non entrare in aziende che magari nascono o sono nate da poco allora tutto qual è il rischio tutto dipende da qual è la tua ambizione nel senso che è vero che entrare in un'azienda magari che è già in attività da dieci quindici anni ti permette di avere una certa tranquillità e ci tengo a fare le virgolette perché comunque stai parlando di un'attività imprenditoriale quindi puoi avere anche centocinquant'anni di vita alle spalle ma ciò non toglie che magari domani mattina tu possa tu possa fallire il 90% delle aziende nel mondo del network ma in realtà è un dato che è trasferibile anche nel mondo imprenditoriale tradizionale il 90% delle aziende muore entro i primi dieci anni questo perché soprattutto nel network ci sono delle dinamiche che sono ancora più difficili da gestire però qual è il dato importante e qua entra in gioco il fatto che devi essere una persona ambiziosa per lavorare con me che se tu entri a far parte di un'azienda che non ha ancora compiuto il quinto anno di attività nonostante tu abbia effettivamente un rischio è vero tangibile che questa azienda magari domani mattina non possa più esistere è anche vero che è l'unico modo ed è l'unico momento in cui tu puoi entrare a far parte di un'azienda e guadagnare potenzialmente milioni di euro in futuro quindi se il tuo obiettivo è quello di arrotondare lo stipendio o guadagnare delle cifre normali puoi entrare tranquillamente in un'azienda che ha 20 anni di esperienza quali sono le cifre normali perché magari è soggettiva la questione sì è vero è soggettiva la questione però per Emma quali sono le cifre normali? posso dire non lo so uno stipendio tradizionale dai mettiamola così sotto i 3-4 mila euro se il tuo obiettivo è guadagnare una cifra sotto i 3-4 mila euro un'azienda che ha 10-15 anni di vita può andar bene anche se abbiamo comunque esperienza di aziende che anche se sono in Italia da 7-8-10-15 anni comunque hanno avuto dei problemi e hanno chiuso magari anche dopo 20 anni quindi in realtà dipende se sei tanto ambiziosa devi partire il più vicino allo zero se sei poco ambiziosa vai a ricercare di più la sicurezza in un'azienda che comunque non esiste la sicurezza in un'azienda quindi non lo so non sicurezza per non sicurezza tanto vale rischiare il tutto per tutto però se ti va bene può andare molto bene non succede ma se succede va bene va molto molto bene perfetto ok allora prima ho detto che oltre a far la calciatrice abbiamo salutato tutta la squadra il team e lo staff sei anche autrice di due libri il primo che si chiama Network Marketing a prova di donna ok e volevo sapere come è nato questo libro e di che cosa parla è adatto anche per la formazione delle persone che si avvicinano al network allora il primo libro è assolutamente adatto a quella che può essere la formazione e più che altro l'approccio a quello che è il mondo del network marketing ok infatti qual è il concept di questo libro all'interno ho inserito un'intervista a sette donne che hanno ottenuto dei grandi risultati all'interno del network lavorando come? lavorando offline e online specialmente online quindi specialmente utilizzando tutti i sistemi che abbiamo detto prima social network eccetera l'obiettivo di questo libro è quello di far capire alle donne in primis che possono ottenere effettivamente dei risultati importanti perché qua dentro ci sono delle storie reali di persone che hanno ottenuto dei risultati e che vivono di network assolutamente e vivono anche alla grande visto che parlavamo prima di cifre normali qua non ci sono cifre normali diciamo che la prefazione te l'ha fatta una donna che comunque vive discretamente bene che guadagna qualche milione all'anno possiamo dire molto più di tutti i calciatori di serie A in questo momento escluso Cristiano Ronaldo che fa categoria a sé vuole far smettere la squadra di giocare no 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 però l'obiettivo è quindi quello di far capire alle donne che c'è una una soluzione c'è un'alternativa ma soprattutto c'è una grandissima opportunità e quindi sì assolutamente questo libro è consigliato per tutte quelle persone che anche solo vogliono capirci un po' di più perché al di là delle storie delle ragazze ci sono comunque tutta una serie di dati oggettivi io poi sono una persona molto analitica quindi mi piace anche un po' unire i puntini e quindi sì assolutamente da questo punto di vista sì ok questo è il primo libro questo è il primo libro esatto il secondo libro non so se è in coincidenza col fatto che hai ricominciato a giocare a calcio o meno però lo spoileriamo? spoileriamo allora network marketing è uno sport per donne esatto o da donna da donne da donne ok vabbè ho fatto un po' non è ancora ufficialmente uscito quindi sei perdonata lo stanno leggendo in anteprima alcune persone quindi a breve insomma sarà disponibile per tutti e diciamo che è un secondo step rispetto a questo perché lì vado ad analizzare un pochino tutte quelle che sono le analogie tra il mondo dello sport e il mondo del network non è un caso in realtà che sia nato proprio adesso che ho ripreso a giocare dopo qualche anno di assenza e ho capito insomma che il mondo dello sport ha tantissimi punti in comune con quello che è dello sviluppo di un'organizzazione di network assolutamente sì per esempio alcuni oddio parlando di squadra beh allora il network marketing è un un lavoro che prevede il fatto che ci sia un team una squadra e ovviamente nella squadra ci sono i singoli quindi l'obiettivo è quello di riuscire ad esaltare i singoli le caratteristiche di ognuno ma per un bene di squadra comune che non è niente di diverso che è quello che può avere come obiettivo una squadra di calcio che vuole vincere un campionato per esempio oppure ho fatto delle analogie magari rispetto a quello che può essere lo sport negli anni 90 piuttosto che lo sport oggi nel 2020 e ci sono tantissime analogie con il fatto che come dicevamo prima il mondo del lavoro è cambiato gli allenamenti sono cambiati le tecnologie per allenarsi le competenze degli allenatori sono cambiate e di conseguenza è una cosa che si sposa perfettamente con quello che è il mondo del network di oggi a livello di concetto ok allora noi prima di venire a fare l'intervista cosa abbiamo fatto giustamente da simpaticone abbiamo fatto delle storie su Instagram raccogliendo qualche domanda un po' di follower che ci seguono ok e delle domande che sono arrivate ne abbiamo selezionate alcune perché tutte non ce la facevamo se no ci servivano ci serviva una diretta intera di una giornata perché ne sono arrivate vabbè di assurde ma va bene lasciamo perdere allora quelle che abbiamo selezionato sono così gli rispondiamo perché gliel'abbiamo promesso c'è un limite d'età per far network guardate lei è vero non c'è il limite d'età o meglio bisogna essere maggiorenni però al di là di quello non c'è un limite d'età a livello di a rialzo mettiamola così ci sono persone che si rimettono in gioco anche a 60-70 anni perché magari vogliono ottenere qualcosa di diverso semplicemente poi dipende dipende perché uno lo fa c'è chi lo fa per sfida c'è chi lo fa per rinascita per rinascita insomma ci sono tante motivazioni che portano e questo è molto legato all'età però non c'è un limite d'età non c'è un limite d'età bene assolutamente un'altra domanda che è arrivata è hai mai pensato di cambiare lavoro? che ti metti a fare? fatti no assolutamente no? mai? no perché come dicevo prima diciamo che il mio obiettivo la mia vita felice è una vita in cui posso permettermi di viaggiare andare in giro conoscere persone vedere posti fare tutta una serie di esperienze senza dover rendere conto a nessuno quindi il network è esattamente questo non potrei fare niente di diverso ok perché questa è la prova simpatica perché qualcuno ma ti faccio vedere perché qualcuno dovrebbe scegliere di lavorare con te rispetto a qualcun altro questa è la più difficile che secondo me allora ha molto a che vedere con quello che abbiamo detto prima perché uno dovrebbe scegliere me piuttosto che scegliere un mio concorrente o piuttosto che scegliere di non fare niente perché poi c'è anche quel tema cioè devo iniziare a fare network voglio iniziare a fare network con chi inizia a fare network lo dicevamo prima fare network significa acquisire tutta una serie di abilità che vanno dal marketing alla vendita al copy alla comunicazione al saper gestire le persone al public speaking insomma tutta una serie di cose perché scegliere me perché ho un sistema che permette di acquisire tutte queste competenze a tutti i livelli sia di età che di esperienze passate come dicevamo prima il mio target ideale di collaboratore è la persona ambiziosa la persona ambiziosa può imparare a fare tutto e basta che esista un sistema funzionale che gli possa insegnare a fare tutto ok come dicevamo sono abituata a mettere a disposizione del mio team la formazione andandola a prendere direttamente alla fonte quindi dove studio io e dove faccio studiare anche te cioè non ci sono filtri non ci sono cose rigirate rifatte cioè quello che io faccio quello che è la mia esperienza te la metto a disposizione e questo non lo fa nessuno mi sento di dire beh molto interessante beh allora noi a livello di chiacchierata direi che abbiamo detto abbastanza abbiamo fatto tante cose vi ho risposto anche a tante vabbè le poche domande selezionate che abbiamo preso in considerazione che è meglio così perché va bene allora dove possono trovarti che canali social hai dove possono trovarti contattarti le persone diciamo il canale principale è il mio sito quindi emmamantovani.it mi possono trovare su instagram emmamanto su facebook emmamantovani sul canale youtube ci sono tutta una serie di contenuti gratuiti e non ho fatto uscire da poco il canale telegram dove do dei contenuti in esclusiva ci sono i due libri c'è l'ebook che si può scaricare gratuitamente a breve uscirà il podcast quindi spoileriamo anche questa cosa qua che sarà scaricabile tramite itunes e poi proprio in questi giorni verrà lanciato quello che è il primo videocorso online a pagamento ovviamente perché come dicevo prima ai miei collaboratori la formazione è gratuita alle altre persone no però bene potete non trovarla non è visibile da nessuna parte comunque scherzi a parte per concludere quindi la nostra chiacchierata che messaggio vorresti mandare alle donne che ci stanno guardando un messaggio che riguardi comunque anche non solo il lavoro ma la vita in generale allora visto che tu hai una visione di vita così free ampia sì sicuramente il mio messaggio è cercate sempre di raggiungere il traguardo successivo cioè qualsiasi qualsiasi sia il vostro obiettivo di vita personale di business di lavoro di qualsiasi cosa cercate sempre di fare di più di alzare sempre l'asticella e di tenervi in evoluzione quindi non rimanete ferme sul divano non rimanete ferme nella situazione dove siete adesso soprattutto e a maggior ragione se non vi piace quindi cercate delle soluzioni si possono trovare informazioni ovunque in rete gratuitamente quindi cercate di uscire un attimino da quella che è la vostra realtà se non vi soddisfa se invece vi soddisfa molto bene cercate di andare ancora oltre quindi sempre guardare al prossimo traguardo esatto a proposito di scomodità oggi visto che veniva lei il divano l'abbiamo levato e abbiamo messo altro così almeno sapevo che non stavamo comode così siamo uscite dalla zona di comfort del divano esatto ecco conclusione con la mia perla di saggezza ringrazio Emma per il tempo che ci ha dedicato e grazie a voi per la chiacchierata e vi rimando alla prossima puntata sempre quando si dice donna sul canale Facebook di libera espressione